Caltanissetta, processo per le stragi del 1992, l'ex latitante Matteo Messina Denaro non si presenta in videoconferenza. La direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di confisca di beni immobili e società per un valore di 4 milioni di euro. Irruzione alla dresca in una pizzeria del centro storico, portato via il registratore di cassa vuoto, l'ennesimo episodio notturno nelle ultime settimane a Caltanissetta. Antologia reporter, questa sera alle ore 21 su TFN, il rollone in seno, primato mondiale. Tavolo tecnico in questura per la partita di calcio Nissa Agragas. Bentrovati, partiamo con la cronaca. Caltanissetta, processo per le stragi del 1992, l'ex latitante Matteo Messina Denaro non si presenta in videoconferenza. L'ex latitante Matteo Messina Denaro non si è presentato questa mattina in videoconferenza dal carcere dell'Aquila, dove si trova detenuto al 41 bis, nell'aula bunker di Caltanissetta, dove si sta svolgendo il processo di appello in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. C'era attesa questa mattina all'interno dell'aula bunker, dove si sta celebrando il processo di appello a Messina Denaro, accusato di essere il mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e condannato all'ergastolo in primo grado. Sarebbe stata la prima volta in un'aula giudiziaria per l'ex latitante arrestato lunedì scorso a Palermo. Il collegamento video con il carcere dell'Aquila, dove Messina Denaro è detenuto, era stato attivato ma l'imputato ha rinunciato. L'udienza è stata rinviata al 9 marzo per consentire al difensore di essere presente. Lo ha deciso il presidente della Corte d'Assise di Caltanissetta, Maria Carmela Giannazzo. Messina Denaro ha scelto come avvocato la nipote Lorenza Guttadauro. Speriamo tutti che decida di collaborare. È depositario di conoscenze sulla stagione stragista che ancora oggi sono sconosciute da altri collaboratori. Lo ha dichiarato il procuratore generale di Caltanissetta, Antonino Patti, come riportato dall'agenzia ANSA al termine dell'udienza del processo a Matteo Messina Denaro, come mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, che si celebra davanti alla Corte d'Assise d'Appello a Caltanissetta. Continuano le indagini sulla cattura con la procura di Palermo che ha posto sotto sequestro la casa da tempo disabitata della madre di Andrea Bonafede, l'uomo sotto la cui identità si copriva Messina Denaro durante la latitanza. L'abitazione si trova all'angolo tra Via Marsala e Via Cusmano a Campobello di Mazzara. Intanto l'autista dell'ex latitante Giovanni Lupino ha dichiarato di non sapere che fosse Messina Denaro perché solo un pazzo, ha dichiarato, avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che si trattava del boss. Infine l'avvocato del dottor Tumbarello, il medico che ha prescritto le ricette mediche ad Andrea Bonafede, il nome falso dietro cui si nascondeva Matteo Messina Denaro, ha detto che il suo assistito chiarirà tutto quando sarà interrogato dagli inquirenti. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di confisca per un valore di 4 milioni di euro. Il provvedimento riguarda un imprenditore di Enna. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito il decreto di confisca definitiva di beni emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore di Enna, la cui elevata pericolosità sociale è dimostrata da diversi precedenti penali. La confisca segue il provvedimento di sequestro eseguito nel 2019 su impulso del direttore della DIA e scaturisce da un'attività investigativa della stessa DIA iniziata nel 2010, dal quale risulta la sproporzione fra l'elevato tenore di vita dell'imprenditore e l'esiguo reddito fiscalmente dichiarato. L'indagine ha mostrato un'attività di usura e ha fatto emergere le tante complicità di cui il soggetto poteva godere all'interno della criminalità ennese. Per questo è stato condannato in via definitiva nel 2022 dalla Corte di Cassazione. Il provvedimento di confisca dal valore complessivo di circa 4 milioni di euro ha interessato l'intero capitale sociale e rilevanti quote di partecipazione in diverse società, tra le quali un rinomato bar e ristorante nel centro commerciale Atlet di Agira, in provincia di Enna, alcune imprese operanti nella produzione di calcestruzzo e la gestione di sale da gioco. Inoltre sono stati sequestrati anche 14 immobili, tra i quali una lussuosa villa con piscina a Nissoria, in provincia di Enna, diversi terreni di elevato valore economico nella zona commerciale di Catania e diversi rapporti bancari con polizze assicurative. Il prossimo servizio di cronaca La squadra mobile ha arrestato un 34enne in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ufficio esecuzione penale per il reato di rapina. L'uomo, condannato con sentenza del Tribunale di Caltanissetta, deve scondare una pena di 10 mesi e 23 giorni di reclusione. Gli agenti della Polizia di Stato, dopo gli aderbimenti di rito, hanno condotto l'arrestato al carcere di Malaspina. Continuiamo con la cronaca. Irruzione ladresca in una pizzeria del centro storico, portato via il registratore di cassa vuoto e l'ennesimo episodio notturno nelle ultime settimane a Caltanissetta. Furto nella notte in una pizzeria del centro storico di Caltanissetta, sita in piazza Mercato. Intorno alle ore 3, alcuni malviventi, dopo aver rotto la vetrata del negozio, sono entrati e hanno rubato il registratore che hanno trovato vuoto. Da quantificare i danni al locale messo a soquadro dal passaggio dai malviventi. La Polizia ha già provveduto ad avviare le indagini del caso. Non è un caso isolato, infatti nell'ultimo mese si sono susseguiti una serie di furti in centro storico, dove i malviventi hanno agito in diverse attività commerciali private e anche nell'ufficio tecnico dell'ex provincia. Per tutti questi furti si è creato un minimo di allarme tra i commercianti nisseni del centro storico, dove non pochi giorni fa il presidente della delegazione comunale Confcommercio di Caltanissetta, Michele Lorina, aveva espresso timore e preoccupazione per il susseguirsi di questi furti e che i malviventi non si fermano oramai davanti a nulla. I commercianti, oltre a chiedere comprensione, avevano chiesto la collaborazione delle istituzioni per fermare e contenere questa ondata di furti. Il disagio dei lavoratori ex reddito minimo di inserimento. I particolari nel servizio. Chiede la convocazione di un tavolo di confronto la Segreteria Territoriale e Provinciale Snalve in merito al mancato avvio al lavoro per l'annunità 2023 per gli ex RMI. Una questione che interesserebbe anche numerosi lavoratori che operano nei territori di Enna e Caltanissetta. L'organizzazione sindacale nel comunicato stampa si rivolge al governo regionale. E poi ancora si legge. Circa mille lavoratori attendono da tempo in memore soluzioni per la loro sorte lavorativa e piace sottolineare che questa scrivente organizzazione sindacale segue la vicenda lavorativa dei predetti operatori, avendo formulato numerose proposte. Sottolineandosi, precisa ancora prima fra tutte questa di costituire un bacino nel quale far confluire le risorse umane professionalizzate con la loro possibile stabilizzazione. Nel frattempo arrivano notizie positive dal Comune Nisseno. È appena arrivata l'autorizzazione della Regione a riattivare le procedure per riassumere gli ex RMI, afferma l'assessore a ramo Cettina Andaloro, che ribadisce. È appena arrivata e noi siamo già pronti per attivare e quindi riassumere tutto questo personale. 600 borse di studio per medici specialisti. Giuseppe Laccoto, presidente della Sesta Commissione Salute all'Assemblea regionale siciliana, annuncia l'approvazione dell'emendamento alla legge di stabilità. Sono in arrivo 600 borse di studio per i medici specialisti grazie all'approvazione dell'emendamento da parte della Commissione Salute all'Assemblea regionale. La Sesta Commissione Salute all'Assemblea regionale ha approvato facendo proprio l'emendamento alla legge di stabilità regionale proposto dal presidente Giuseppe Laccoto di indire 600 borse di studio per la formazione specialistica. Le borse di studio sono finalizzate ad aumentare il numero di anestesisti, cardiologi, ortopedici e medici d'emergenza-urgenza. Si tratta di una vera e propria inversione di tendenza, una svolta in risposta alla grave carenza di medici in tutte le aspe siciliane, ha dichiarato l'onorevole Laccoto. Offriamo nuove opportunità ai medici neolaureati che aspirano alla specializzazione accorciando i tempi fino a 3-4 anni, mentre per i nuovi iscritti dovremmo attendere fino a 11 anni. Al tempo stesso diamo un riscontro alle esigenze delle strutture sanitarie pubbliche e risposte in termini di servizi rese ai cittadini. Con l'approvazione di questa proposta, concluso l'onorevole, la Commissione vuole dare un segnale di attenzione riguardo la carenza di medici e intende mettere in campo ogni possibilità di intervento e di risorsa per fornire ai cittadini una sanità migliore. La reliquia del giudice Rosario Livatino, assassinato il 21 settembre del 1990, è esposta al Consiglio Superiore della Magistratura. I particolari nel servizio. Autentico testimone dei valori della Repubblica, Rosario Livatino, ucciso in un vilagguato mafioso mentre si recava al Tribunale di Agrigento, sua sede di servizio, ha sacrificato la propria vita per affermare valori dello Stato di diritto contro la cieca violenza della criminalità. Con questo messaggio, in occasione del convegno che si è svolto ieri durante la peregrinazio romana della reliquia del giudice, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare il giovane magistrato siciliano, ora beato, ucciso il 21 settembre del 1990 dai killer della mafia agrigentina. Fino al 21 gennaio la teca con la camicia insanguinata che Rosario Livatino indossava la mattina dell'omicidio, il 21 settembre del 1990, per mano dei killer della mafia agrigentina, sarà esposta nelle sedi delle massime istituzioni italiane, da Montecitorio al CSM, dal Ministero della Giustizia al Comando della Guardia di Finanza, fino al Senato della Repubblica. Sono previsti due convegni al Senato in Confindustria, con la messa conclusiva nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. La memoria del suo esempio invita tutti a proseguire nella battaglia a difesa della legalità, rinnovando l'impegno a cui tutti siamo chiamati per contrastare ogni forma di criminalità, con la stessa coerenza e determinazione, ha concluso il Presidente della Repubblica, che hanno contraddistinto il suo agire. Corso Vittorio Emanuele, lavori per la sostituzione delle basole laviche. Il divieto di sosta sul lato sinistro agevola la circolazione delle auto in corso Vittorio Emanuele, dove sono iniziati sul lato destro i lavori di sostituzione delle basole danneggiate in prossimità di un attraversamento pedonale, un intervento che rientrerebbe nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano anno 2022. È stato infatti istituito con apposita ordinanza il divieto di sosta con rimozione forzata in Corso Vittorio Emanuele, dal civico 73 all'89. Noi stiamo attuando una richiesta che è stata fatta dalla Direzione Seconda Lavori Pubblici, che per garantire il ripristino della sede stradale di Corso Vittorio Emanuele all'altezza di Piazza Garibaldi necessita un intervento per liberare le auto che normalmente sono in sosta in quel tratto di strada, perché c'è l'esigenza di ripristinare la sede con il basalto, perché alcune pietre laviche non sono più ancorate stabilmente al suolo. Quindi per qualche giorno abbiamo disposto il divieto di sosta di quell'area, il transito comunque è garantito, la strada non è completamente chiusa, per il tempo necessario sia all'intervento prima e poi anche per la stagionatura dell'intervento che sarà effettuato. Il divieto sarà valido per una decina di giorni, sino alla fine dei lavori, a partire dal 19 gennaio. La stima della durata dei lavori è questa, però chiaramente tempo permettendo, perché se le condizioni meteo cambiano, come le previsioni preannunciano, è probabile che dureranno qualche giorno in più rispetto a quanto indicato, però noi ci auguriamo che nel giro di, ripeto, sette giorni tutto possa definirsi. Covid in Sicilia, bollettino settimanale, diminuiscono nuovi casi e ricoveri. Nella settimana dal 9 al 15 gennaio si è registrato in Sicilia un calo delle nuove infezioni da Covid-19, in linea con la tendenza nazionale. I nuovi positivi sono stati 7.585 con un'incidenza di 158 per 100.000 abitanti. I tassi più elevati rispetto alla media regionale sono stati osservati nelle province di Palermo, Agrigento e Siracusa. Le fasce d'età più a rischio risultano quelle tra gli 80 e gli 89 anni, tra i 70 e i 79 anni e quella degli over 90. I dati sono contenuti nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Anche le nuove ospedalizzazioni sono risultate in lieve calo, sebbene la diffusione nei contagi pregressi si riflette ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid. Nella stessa settimana più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata. Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia i dati sono aggiornati al 17 gennaio. Nella fascia d'età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,99% del target regionale. I bambini che hanno completato il ciclo primario sono 63.576, pari al 20,63%. Nel target over 12 i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,94%, mentre l'89,57% ha completato il ciclo primario. Sono ancora 1.057.593 i cittadini che, pur avendo né diritto, non hanno effettuato la terza dose. I vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.772.675, pari al 72,39% degli aventi diritto. Complessivamente sono state effettuate 232.209 somministrazioni di quarta dose, di cui 204.912 a soggetti over 60. Le quinte dosi risultano complessivamente 7.779. Il prossimo servizio. Venerdì 20 gennaio alle 16.30 in Viale Regina Margherita si terrà un sit-in davanti la Prefettura per chiedere uno stop immediato alle esecuzioni capitali in Iran. A sottoscrivere l'appello sono oltre 20 associazioni. All'iniziativa hanno aderito non solo rappresentanti del mondo dell'associazionismo, dei sindacati, della politica ed alcuni istituti scolastici, ma anche liberi cittadini, che a quattro mesi dall'uccisione di Masamini continuano ad essere vicini ai giovani e alle giovani che protestano contro il regime degli Ayatollah. I venerdì saremo di nuovo in piazza a manifestare il nostro dissenso e la nostra indignazione nei confronti della feroce repressione messa in atto dal governo iraniano. A questo scopo, insieme a tante altre associazioni, ma anche tanti singoli cittadini e cittadini, che hanno ritenuto di aderire a questa iniziativa, consegneremo nelle mani della prefetta un appello indirizzato anche al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale, per lo stop immediato alle esecuzioni capitali. Vorremmo che le nostre istituzioni locali si facessero portavoce nei confronti del governo nazionale della necessità di implementare gli sforzi per porre fine a questa angosciosa situazione. Noi siamo convinti che gli sforzi diplomatici e le sanzioni applicate fino a questo momento non abbiano raggiunto i risultati sperati, però siamo convinti che si può fare ancora qualcosa, che l'Occidente può fare qualcosa e soprattutto le Nazioni Unite possono fare qualcosa, perché contro la violazione dei diritti umani le Nazioni Unite possono e devono intervenire. Il documento sottoscritto è indirizzato ai rappresentanti delle istituzioni cittadine, al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e sarà consegnato al prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia. La richiesta è rivolta al mondo istituzionale locale perché si faccia portavoce al governo nazionale di intervenire diplomaticamente a livello internazionale per la tutela dei diritti umani in Iran e perché siano fermate le esecuzioni dei giovani manifestanti condannati a morte per aver protestato contro il regime dopo la morte di Masamini. Chi vorrà aderire potrà farlo il giorno del sit-in sia come associazione che da singolo cittadino. Progetto di innovazione DezLab. Per partecipare c'è tempo fino al 3 febbraio. Modulo di domanda sul sito internet del Comune di Caltanissetta. Il servizio. C'è tempo fino al 3 febbraio per inviare tramite mail l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune tra gli avvisi istituzionali per poter partecipare alle attività finalizzate alla coprogettazione degli interventi e prendere parte al progetto DezLab, acronimo di Technological Hub and Testing Services Laboratory. Presegue infatti il processo di realizzazione di tale progetto partito con un partenariato al quale il Comune Nisseno ha aderito nel 2020, curato dal Gallater del Nisseno e che recentemente ha ottenuto un finanziamento di 300.000 euro dalla Regione con i fondi del Pofestre 2014-2020. Fanno parte del partenariato diverse realtà come comuni e tra questi quello Nisseno e Capofila ma anche enti e scuole. L'assegnazione del finanziamento permette dunque adesso di procedere con un'altra fase, la possibilità di ampliare la partecipazione a qualunque altro operatore del territorio nell'ambito di alcuni settori. Obiettivo generale dell'intervento è quello di favorire l'innovazione sociale ed organizzativa nel territorio delle terre del Nisseno, si legge, sostenendo l'applicazione delle tecnologie abilitanti nei settori dei beni culturali, del turismo, dell'agri-neconomy, dell'agri-food, dell'open data, dei servizi civici e collettivi, attraverso la realizzazione di un laboratorio innovativo che contribuisca fortemente a tenere il territorio agganciato ai trend tecnologici più promettenti per la crescita territoriale. E ancora si precisa, gli obiettivi specifici del progetto DezLab sono quelli dell'applicazione delle tecnologie digitali innovative per massimizzare la conoscenza, la fruibilità, l'accessibilità, l'usabilità e la desiderabilità del territorio della Sicilia centrale, delle terre del Nisseno in particolare, e del suo patrimonio, materiale e immateriale, per la sua crescita socio-economica e per il supporto alla gestione dei flussi turistici potenzialmente ben superiori agli attuali. Si prevede dunque la predisposizione di un ambiente fisico, cioè un laboratorio digitale, ma anche diverse attività laboratoriali. Un'interazione tra gruppi utenze e laboratori TIC, cioè i partner con competenze tecnologiche, e ancora workshop, seminari, didattica in presenza e a distanza. Nel frattempo gli uffici comunali nella conduzione del progetto DezLab, si precisa ancora nella nota, saranno affiancati da figure specializzate la cui selezione è attualmente in corso. Il centro Michele Abbate sarà la sede in cui si svolgerà il progetto. Alcuni lavori sono stati raccolti in una piccola mostra ed esposti durante la cerimonia di premiazione del 18 gennaio 2023. Si chiude così il premio di cultura a Pier Maria Rosso di San Secondo 2022, bandito dal comitato provinciale della Dante Lighieri di Caltanissette del parco letterario Pier Maria Rosso di San Secondo e che ha visto la partecipazione di numerosi studenti. Gli elaborati presentati sono stati valutati dalla commissione che ha poi assegnato i premi ai vincitori delle varie sezioni, in alcuni casi decretando anche degli ex equo e i diplomi di merito. Abbiamo voluto quest'anno dedicare il premio proprio alla donna nella novellistica di Rosso di San Secondo e abbiamo cercato di raggiungere così due obiettivi. Uno la divulgazione dell'opera che abbiamo fatto anche con l'antologia sansecontiana distribuita a tutte le scuole, a tutti gli enti e per un totale di mille copie. E poi questo concorso che ha visto la partecipazione di studenti delle scuole di ogni ordine e grado che con grande entusiasmo hanno partecipato e hanno raggiunto risultati di livello. Nella scuola media addirittura abbiamo dovuto distinguere due tipologie di premi. È stato anche molto difficile per la commissione andare a valutare perché erano tutti veramente molto ma molto belli. Ci sono i quadri, ci sono i video, tesine, lavori individuali, lavori di gruppo. Hanno veramente dato il massimo di sé e si vede anche che hanno partecipato con amore e con interesse. Io sono soddisfatta e spero anche che alla fine della settimana si possa concludere la distribuzione di sansecontiana in tutte le scuole e in tutti gli enti dell'Agita. Visita a Palazzo d'Orleans del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito il Generale di Corpo Armata Pietro Serino. A riceverlo il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Ad accompagnare l'Alto Ufficiale anche i Generali Giuseppe Nicola Tota, Comandante delle Forze Operative Sud, e Angelo Maurizio Scardino, Comandante Militare dell'Esercito in Sicilia. Il Presidente si è intrattenuto a lungo con i militari e al termine del colloquio ha offerto in dono il Crest, con i simboli della Regione Siciliana e ricevuto quello dell'Esercito. Passiamo adesso allo sport. Si avvicina il big match di domenica prossima tra Nisse e Acragas. Intanto in questura per l'evento è stato convocato un tavolo tecnico. Nisse-Acragas comincia ad entrare nel vivo. Da determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, sulla partita si è sospeso il giudizio, al fine di approfondire l'analisi dei rischi e nel contempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, le società non possono far avviare la vendita dei taglianti. Infatti, domani, venerdì 20 gennaio, ci sarà un tavolo tecnico in questura, con la partecipazione dei dirigenti e delle associazioni sportive interessate. Ogni decisione adottata da questo tavolo tecnico verrà comunicata successivamente, considerata la delicatezza della partita, visto i rapporti non proprio idilliaci fra le due tifoserie, anche alla luce di quando avvenuto prima di Nisse-Enna due passi dal Palmindelli. Intanto prosegue la preparazione degli uomini di Alessio Sferrazza in vista del big match di domenica pomeriggio al Tomaselli, dove i bianco scudati devono riprovare a salire la china dopo la battuta di arresto di Marineo e provare ad avere la meglio sull'Akragas, che scenderà al Tomaselli con un trend di risultati positivi e la consapevolezza della prima della classe. Continuiamo con lo sport. Akragas è travolto dalla nuova Egea Virtus per 4-0 nella finale di Coppa Italia Eccellenza. Intanto domenica gli Acracantini faranno visita alla Nissa al Marco Tomaselli per la diciottesima giornata del campionato di eccellenza. C'era tanta attesa nell'ambiente agrigentino per la finale di Coppa Italia Eccellenza che si è disputata ieri allo stadio Aldocampo di Ragusa. Il risultato, però, non ha lasciato spazio alle speranze bianco-azzurre. La nuova Egea Virtus, infatti, ha vinto il trofeo grazie a un meritato 4-0 che non ha mai messo in discussione la contesa. La supremazia della formazione di Pasquale Ferrara è stata palese sin dall'inizio, con il primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete dell'argentino Lucas Idojaha. Nella ripresa subito il raddoppio dell'Igea ha definitivamente chiuso la partita, con l'Akragas che è rimasta in dieci per l'espulsione di Garufo. Poi il terzo e il quarto gol hanno vidimato la disfatta agrigentina. Il triplice fischio ha dato il là alla festa della squadra messinese, che ha conquistato il primo trofeo della stagione. Per l'Akragas un pomeriggio da dimenticare, una pesante debacle che preoccupa in vista della prosecuzione della stagione, a cui è difficile trovare una spiegazione. Sconfitta pesante, è difficile da giustificare. È chiaro che oggi c'è stato un blackout totale della squadra, anche perché non ho visto un problema tattico, ma ho visto due anni persi in mezzo al campo, tanti errori tecnici, tante situazioni che in altre situazioni abbiamo gestito in maniera diversa. Ho visto la squadra che si è rifiutata completamente di adottare i principi di gioco che aveva adottato fino a questo momento, cioè dire il fraseggio, il gioco corto. Invece abbiamo cominciato a buttare via sta palla, quindi ti ripeto, probabilmente un blackout generale, una partita difficile da giustificare. È chiaro che noi abbiamo un campionato da disputare, dobbiamo far sì che questa sconvitta non pesi più di quanto già pesa nelle teste dei ragazzi, quindi già domani dobbiamo cominciare a lavorare sulla testa, sulla mentalità, ripartire anche perché il nostro percorso continua. Le parole del tecnico a fine partita hanno lasciato trasparire tutta l'amarezza per una sconfitta inopinata, che non va però a intaccare la consapevolezza che la stagione è ancora lunga e per l'Akragas ci sarà l'occasione per dimenticare il pomeriggio di Ragusa. È tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblico utilità. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un nuovo guasto del tempo raggiungerà il centro-sud Italia, per questo minimo insidioso che dalla Spagna raggiungerà proprio le regioni centro-medionali. Venti che saranno tra l'altro forti con tirreno meridionale, Mar di Sicilia, agitato o molto agitato. Nel dettaglio possiamo notare le precipitazioni da prima sulla Sardegna, poi dal pomeriggio anche su basso Tirreno e medio-basso Adriatico. Nevicate a disegnare la dorsale appenninica anche sotto gli 800 metri di quota. Per il nord invece possiamo notare la prossima grafica, sensibile miglioramento. Ultimi fiocchi di nevi in appennino durante la mattinata, poi schiarite sempre più ampi e torna il bel tempo anche al nord-ovest sulla Liguria con il sole e venti di tramontana. Dettagli maggiori, ulteriori approfondimenti scaricando l'apo gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno. Caltanissetta. Servizio diurno. Romano. Corso Vittorio Emanuele. Servizio notturno. Vizzini. Viale Trieste.